Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi desidero mostrarvi un qualcosa che è abbastanza singolare, non è proprio così comune, e per questo vorrei ringraziare Roberto che mi ha prestato questo strumento per appunto farlo vedere qui all'interno del canale. Si tratta di un maccanemometro di un aereo militare molto famoso che si chiama Tornado. Questo strumento è un vero strumento aeronautico, non più operativo perché chiaramente è stato rimosso dall'aereo per varie questioni, per cui lo strumento conserva ancora la sua funzionalità interna e oggi andremo a vedere appunto come è fatto internamente. Anche se lo strumento è di un aereo militare, questo non ci impedisce di poter osservare il funzionamento interno che è lo stesso degli strumenti che noi utilizziamo nel settore civile, sia nell'ambito dell'aviazione generale con i vari strumenti a capsula che abbiamo negli aerei di aviazione generale, che anche nei più vecchi aerei di linea dove venivano utilizzati strumenti analogici o anche in alcuni aerei di linea più moderni con gli strumenti a capsula utilizzati come standby, quindi come strumenti di riserva. La comprensione del funzionamento dello strumento ci è anche utile, soprattutto nel caso stiate facendo un corso PPL o ATPL, per poter capire veramente poi come questi strumenti traducono un certo impulso, che è per lo più un impulso pneumatico, in una visualizzazione sul display. Al fine di una migliore comprensione di questo video vi consiglio di guardare due miei video che ho già realizzato, poiché vi da le basi per poter comprendere alcuni dei termini che utilizzerò in questo video. Il primo vi parla di come funziona la presa pitot e la presa statica di cui adesso andremo a parlare. Il secondo invece parla di velocità aeronautiche, quindi di velocità indicata, di velocità vera, di velocità rispetto al suolo. Vi invito a vedere questi due video che appaiono in alto a destra cliccando sulla i e che vi aiutano appunto per la comprensione di questo video. Allora, questo strumento ha due quadranti, anche se sembra ce ne sia solo uno. Quello più esterno indica i nodi e sono indicati in centinaia di nodi ed è un anemometro identico a quello che noi abbiamo sugli aerei di avversione generale o sugli aerei di linea. Quindi uno sarà 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e 800. Chiaramente lo strumento non fa il giro completo, quindi dopo 800 praticamente ci si ferma perché comunque la velocità massima di questo aereo in nodi non superava appunto i 700 nodi all'incirca per quanto riguarda la velocità indicata. Quello che possiamo vedere è che oltre alla lancetta lunga c'è come una finestrella qui al centro sotto la quale ci sono dei numeri 1.4, 1.2. Bene, quello è il numero di Mach. Il numero di Mach, come abbiamo detto nei precedenti video, è una misura della velocità dell'aereo rispetto alla velocità del suono di quel punto specifico dell'atmosfera in cui l'aereo sta volando. Cosa significa? Nel punto specifico in cui noi ci troviamo col nostro aereo, l'atmosfera, l'aria attorno all'aereo, avrà delle caratteristiche fisiche di densità e di temperatura sostanzialmente. Queste caratteristiche variano da punto a punto. Se noi saliamo la densità scende, se noi viaggiamo in una zona con temperature basse la densità dell'aria sale e di conseguenza varia anche la velocità del suono sostanzialmente in base alla temperatura. Si dice numero di Mach il rapporto fra la nostra velocità attuale vera, la nostra TAS, la True Air Speed, quindi la nostra velocità rispetto alle particelle dell'aria attorno all'aereo, quindi non quella che leggiamo qui, ma la velocità TAS che deve essere calcolata, fratto la velocità del suono in quel momento. Dati i giusti parametri, la velocità del suono in quel punto può essere calcolata anche attraverso il regolo aeronautico. Ma non lo vedremo oggi. Quindi un rapporto di 1, Mach 1, significa che l'aereo sta viaggiando alla velocità del suono, di quel punto, in quelle specifiche condizioni fisiche dell'aria. Viaggiare oltre il Mach 1 si dice volo supersonico e significa che noi stiamo viaggiando oltre la velocità del suono. Viaggiare più bassi di 1 significa volare in volo subsonico e quindi a velocità più bassa rispetto a quella del suono. Variando la velocità del suono in base alla temperatura e variando la TAS soprattutto in base alla densità dell'aria, dobbiamo capire come questo strumento ricava queste due informazioni e come poi ci visualizza il numero di Mach in maniera corretta. Per poter capire queste cose dobbiamo necessariamente aprire lo strumento. Bene, questo è il nostro anemometro. Abbiamo questo spadone che in realtà è solo un riferimento, non comanda niente, non agisce sull'autopilota. Ora vedremo come funziona questa ghiera rotante. Abbiamo la lancetta dell'anemometro e sotto la finestrella del Mach. Questi quattro fori che abbiamo all'angolo sono i fori di montaggio dello strumento all'interno del pannello e nella parte posteriore abbiamo queste tre connessioni. La connessione del pitot, la connessione della presa statica e una connessione elettrica che serve solo per illuminare lo strumento come vedremo adesso. Bene, procediamo adesso con l'apertura dello strumento, quindi rimuovendo il pannello frontale. Bene, ora che le viti sono tutte lente possiamo togliere la parte frontale e ovviamente dobbiamo anche divincolare un po' il nottolino e ora vi invia. Subito sotto abbiamo il vetro, questo qui è il vetro che protegge lo strumento e nella parte superiore vedete questa specie di incavo più chiaro serve per illuminare lo strumento. Infatti queste quattro che vedete qui sono quattro lampadine che servono per illuminare il quadrante attraverso un gioco di riflessioni all'interno del vetro. Quindi abbiamo le quattro lampadine e subito sotto qui abbiamo una guarnizione. Questa ci assicura che lo strumento sia sempre a prova d'aria perché ovviamente la cassa interna deve essere sigillata, quindi questa guarnizione garantisce questa tenuta e quindi ora abbiamo direttamente accesso, bisogna fare molta attenzione a non toccare le lancette per non sfasarle. Questa ghiera di alluminio garantisce una separazione appunto dalla... questa ghiera di alluminio che ho rimosso serve a mantenere lo strumento, il quadrante dello strumento in posizione e anche come sede per la nostra guarnizione. Adesso lo strumento è quasi libero, bisogna andare nella parte retrostante, qui nel foro di Pitò c'è una vite, come potete vedere, che trattiene lo strumento in posizione. Quindi andiamo a svitare, ecco, questa vite. Quindi possiamo con molta gentilezza andare a togliere questa vite che è forata, infatti da questo foro, da questo forellino che si vede al centro passa l'aria della presa Pitò e ora con un po' di pressione Ecco fatto, abbiamo liberato lo strumento Ora, questa piccola ruota dentata che è venuta via è la ruota dentata che è dal nottolino anteriore, vi faccio vedere dove si trova quindi da questa sede, vedete, qui, qui dentro attraverso la rotazione del nottolino ingaggia questa ruota dentata che si vede qui che muove in effetti l'indice, l'indice arancione Quindi, come vedete, è solo un collegamento meccanico, ma non c'è nulla poi di, insomma, conseguenziale alla rotazione di questo spadone, di questo indice E ora vi mostro prima l'interno della cassa Vedete che i due fori che prima vedevamo dall'esterno, Statica e Pitò comunicano direttamente all'interno della cassa, quindi non c'è nessuna connessione poi successiva c'è una piccola griglia, non so se si apprezza qui sul foro, appunto, per evitare l'ingresso di corpi estrani mentre il foro del Pitò, quello centrale, comunica direttamente con questa presa qui che adesso vi farò vedere cosa fa Giusto per concludere, all'interno, in direzione del connettore elettrico abbiamo questo cavo flat che si vede, ecco, magari così si vede meglio connette direttamente ed elettricamente il connettore esterno alle lampadine queste qui che vedete, appunto, all'esterno quindi il connettore va solo a garantire l'illuminazione dello strumento, non fa nient'altro di più Andiamo a vedere lo strumento vero e proprio, com'è fatto Allora, innanzitutto abbiamo i due aneroidi poi degli aneroidi parleremo bene in un video apposito Gli aneroidi sono queste capsule di rame che vedete in questo qui abbastanza evidenti ce ne sono due e adesso capiremo il perché Giusto per vostra conoscenza, la parola aneroide viene dal greco ed è l'unione di A, la privativa, che significa senza e neros, che vuol dire liquido, quindi senza liquido perché quando fu brevettato nel 1800 questo strumento gli unici barometri o strumenti comunque di misurazione della pressione che esistevano erano a liquido e quindi come il barometro di Torricelli quindi questo, grazie all'utilizzo di questa tipologia di strumento appunto si evitava l'utilizzo del liquido e quindi da qui aneroide, quindi senza liquido Gli aneroidi sono due in questo caso e perché sono due? Uno ci serve per far funzionare l'anemometro ed è questo più grande che vedete qui sotto questo qui questa capsula più grande che viene alimentata, vedete, direttamente dal pitot vi ricordo che qui entra l'aria che proviene dal pitot e l'aria entra direttamente nella capsula più grande e poi abbiamo questa seconda capsula che serve per il macmetro che si chiama capsula altimetrica e adesso vi spiego un po' a che serve allora, queste capsule sono elastiche e per dimostrarvi quello che vi sto dicendo ora io premo lievemente sulla capsula molto vedete come si muovono gli indici per farvi capire il livello di movimento pensate che il movimento microscopico viene amplificato da questi leverismi da queste leve qui che vedete qui e vi faccio vedere di quanto si muove la lancetta per movimenti microscopici quindi quando noi andiamo a muovere la capsula vedete io sto muovendo questa 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 levetta qui che è collegata con la capsula dell'anemometro quindi questa qui guardate di quanto si muove la lancetta per movimenti microscopici quindi gli aneroidi si muovono pochissimo in realtà allora qui arriva la pressione del pitot quindi più andiamo veloce più la pressione dinamica dell'aria quindi la pressione di impatto contro l'aereo entra nel pitot e attraverso dei tubicini arriva all'interno dello strumento attraverso questo tubo e gonfia l'aneroide si gonfia perché appunto la maggiore pressione gonfia l'aneroide e quindi questo movimento di questo gonfiaggio dell'aneroide viene trasferito direttamente a questo cinematismo più l'aneroide è gonfio e più questa lancetta si muove in questa maniera e quindi più il nostro anemometro segna un valore alto vi ricordo che all'interno della cassa dello strumento c'è direttamente la lettura della pressione statica che entra appunto da quel foro in basso a destra la pressione statica c'è sia all'interno dell'aneroide e sia all'interno della cassa e quindi premendo sia dall'interno che dall'esterno annulla la pressione statica che cos'è la pressione statica? è la pressione atmosferica la pressione dell'aria ovviamente se noi saliamo cosa ci aspetteremo? che la minore pressione dell'aria comprimesse un po' di meno la capsula del nostro anemometro invece questo effetto viene annullato poiché la minore pressione interna alla capsula viene bilanciata anche da una minore pressione interna alla cassa dello strumento quindi a tutta l'aria che circonda l'aneroide per cui le due forze sono uguali ed opposte si annullano quindi questa capsula legge solo e solamente il valore di pressione dinamica quindi di urto dell'aria all'interno dello strumento questa seconda capsula invece è una capsula altimetrica vedete non è connessa a nessun tubicino infatti all'interno di questa capsula è dato un valore di pressione standard e la cassa non ha alcuna comunicazione con l'esterno quello che succede è che quando la pressione statica all'interno della cassa dello strumento diminuisce perché stiamo salendo questa capsula si gonfia poiché la pressione interna che è un valore fisso è maggiore di quella esterna e quindi garantisce il gonfiaggio di questa capsula il gonfiaggio di questa capsula comunica con questo leverismo vedete? e ora vi faccio vedere l'effetto se io vado a toccare questo leverismo vedete? il mio Mach number scende ora in realtà volendo simulare un gonfiaggio noi dovremmo fare questo movimento quindi tirare un po' perché appunto la capsula si gonfia e quindi questo leverismo viene più in qui vedete come il Mach number sale e perché sale il Mach number? immaginiamo di essere per esempio a ecco 400 nodi quindi ora sto muovendo il leverismo della capsula dell'anemometro ora se io rimango a 400 nodi e salgo ovviamente la mia TAS sale e se la mia TAS sale significa che io sto andando mantenendo i 450 in questo caso significa che io sto andando a un numero di Mach sempre maggiore e in effetti se io muovo la capsula altimetrica nella direzione corretta vedete che il Mach number sale finché ovviamente non arriva un limite al limite della capsula ora io non voglio forzare oltremodo lo strumento però immaginate la pressione che agisce su queste capsule per muoverle in questa maniera quindi lo strumento è coerente nel senso che se io vado a 400 nodi a livello del mare magari sto andando a Mach 0.7 un po' meno se io però salgo ecco che è sempre a 400 nodi io sto andando in realtà a Mach 1 come in questo caso quindi questo strumento è uno strumento combinato io leggo contemporaneamente i nodi con il mio Mach number ora però c'è un problema che viene risolto da queste vitine che ci sono qui cosa sono quelle vitine vedete comunicano con una specie di piastra questa qui con una lamina ci sono due lamine in realtà quelle sono delle viti di taratura vedete tutte queste piccoline qui quelle viti servono per la compensazione dell'errore termico praticamente il numero di Mach è dovuto anche alla temperatura quindi se varia la temperatura cambia anche la velocità del suono e quindi varia anche la velocità Mach il numero di Mach del nostro aereo quindi con la regolazione di queste vitine noi andiamo ad imprimere degli offset andiamo ad imprimere delle correzioni alla capsula del nostro del nostro anemometro per cui quando la capsula cercherà di gonfiarsi ora cerco di simulare questo effetto vedete tocca quel quel riscontro che è un riscontro mobile che si muove anche in base alla temperatura per via della dilatazione termica e quindi in base a questo a questo effetto noi abbiamo che c'è una correzione anche termica per cui questa lamina che si dilata e si contrae in base alla temperatura viene corretta attraverso l'utilizzo di queste vitine che poi vanno ad agire direttamente sull'offset del nostro della nostra capsula neroide dell'anemometro quindi questo è lo strumento è veramente molto semplice ecco poi qui abbiamo una vercella praticamente si tratta di una molla che serve per far ritornare la lancetta del nostro strumento a zero quindi io quando vado a praticamente avere un gonfiaggio e quindi un movimento della lancetta quella molla poi mi fa ritornare in posizione l'indicatore quindi me lo fa ritornare sullo zero in ultimo qui si intravede purtroppo è un po' difficile un po' ostico da mostrarvelo quella squadretta questa questa qui questa squadretta che si vede qui questa mezzaluna è appunto un ingranaggio che comunica il movimento della neroide attraverso una serie di cinematesmi che ci sono all'interno un po' difficili da mostrarvi comunica direttamente questo movimento in maniera del tutto meccanica quindi non c'è niente di elettronico direttamente alla lancetta di avanti e lo stesso fa quest'altro cinematesmo qui c'è un'altra vercella che comunica direttamente con invece l'indicatore del Mac ecco qui si vedono meglio le vitine di regolazione di cui vi stavo parlando prima queste qui tutte queste che si vedono qui un'ultima cosa che volevo mostrarvi è questa vedete qui c'è un numero questo 8 romano e poi 866 queste sono delle apposizioni che vengono scritte a mano quando la neroide viene mandato in revisione perché questi strumenti vanno in revisione spesso e quindi chi lo ha appunto sistemato chi lo ha tarato ha messo questo appunto non ho idea di cosa significhi sicuramente sono dei riferimenti della manutenzione di questo macanemometro quindi qui abbiamo questo numero e abbiamo anche sull'altra capsula vedete un altro numero che fa sempre la stessa la stessa cosa quindi questi numeri vengono scritti a mano da chi si occupa poi della taratura di questi strumenti che deve essere fatta sempre a intervalli di tempo regolari bene io spero che il video sia stato interessante se lo è stato vi invito a mettere mi piace a condividerlo con i vostri amici e a commentare se avete dei dubbi dei suggerimenti o delle domande se questo sabato 14 vi trovate dalle parti di Roma ricordate che c'è il raduno onera dal vivo dove potrete anche volare a fianco a me in un aereo vero e dove sicuramente trascorreremo una allegra giornata insieme quindi se potete siamo a Roma non mancate tutti i dettagli in descrizione se trovate il cuoricino a fianco al vostro commento significa che ho gradito o vi ringrazio per quello che avete scritto e come sempre io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video a un prossimo video